senior, totalizzatore orientato verso Socratevic, 2.54, ora Antonio Di Nardinzal che è la sua quota mezzo meccanico in movimento, 11 buoni tre anni, settima miglio, siamo a metà della piegata, allineamento che va quasi a completarsi e inizia a prendere velocità la macchina, si completa l'allineamento, arretrato, smoke, di pioggia, via la macchina in velocità, galoppa Sogno del Nord, Sharon Pride nei confronti di Superba e soprattutto a largo di Siria di Mar, cavalli che affrontano la piegata, insiste Siria di Mar, lancio in 13.2 e così a completamento della prima curva Siria scende lungo i birili su Sharon Pride e viene via subito Socratevic, si completa la piegata ai 400 violenti in 28.2 e davanti alle tribune Socrate prende la scia di Superba Par, allargo anche il 2 di solo Caf, l'andatura è brillante, 43 un battito addirittura ai 600, Socrate viene via deciso e si presenta su Siria di Mar, cavalli che affrontano la penultima curva a mezzo miglio sostenuto in 58.5 e di fronte i due fratellini terribili Gaetano e Antonio Di Nardo in pole position. Ora viene via la grande solo Caf, chilometro in 1.13.4, galoppa il 10, presi Solar Baby ha preso un inciampone, sta passando intanto Socrate mentre si spegne Sharon Pride, curva finale 14.9, 1.28 e 4.3 quarti di miglio, viene via anche Sovrano Fass, viene via anche Sboc di Piaggia, discorso molto aperto per la vittoria, retta d'arrivo con Socrate in vantaggio, ma viene via Sovrano, passa, interviene Sboc di Piaggia, Sovrano in vantaggio, il palo si avvicina, non c'è più tempo per l'omino al doppio, mentre per il terzi numero uno di Sorrento Lewis, 1.59.6, parziale al contrario, è venuto fuori una corsa al contrario, chi ha avuto più pazienza, pazienza, è emerso in dirittura d'arrivo, gli altri hanno seminato, ma chi ha raccolto è stato l'omino con questo Sovrano Fass per la gioia dell'Avvocato Gragnanello, alla grande anche quello di Velotti, Sboc di Piaggio, mentre Sorrento trova il Varco Tardi, ma ormai il terza moneta, la porta a casa ancora con onore. Quindi i numeri 11, 8, 1, Sovrano Fass, 21 euro in chiusura, linea alla regia.